Ciao bimbi, come state? Ben ritrovati! Oggi, se vi va, cantiamo un'altra canzone insieme per divertirci un altro po', ok? Oggi abbiamo pensato di cantare la canzone degli attrezzi, ve la ricordate? Siete pronti? Via! Là nell'officina non c'è più nessuno Solo gli attrezzi in ordine per uno C'è il martello che fa così Che fa così Pum, 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 pum Là nell'officina non c'è più nessuno Solo gli attrezzi in ordine per uno C'è il cacciavite che fa così Che fa così Cic, ciac, cic, ciac, cic, ciac, ci, ciac Là nell'officina non c'è più nessuno Solo gli attrezzi in ordine per uno C'è il trapano che fa così Che fa così Fru, 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 fru zag! Là nell'officina non c'è più nessuno, solo gli attrezzi in ordine per uno. C'è la torcia che fa così, che fa così. Clic, clac, clic, clac, clic, clac. Buonanotte attrezzi! Buon riposo! Buon riposo! Ciao, ciao, ciao! Vi è piaciuta bimbi? Ve la ricordavate? Ma sì che se la ricordavano sicuramente! Adesso ne cantiamo un'altra che anche questa vi è piaciuta e vi piace ancora tanto. Siete pronti? Quella della gallina del pulcino, eh? Ve la ricordate? Pronti? Via! Beata te gallina che non vai a lavorar, ti sveglia la mattina e Coccodè comincia a fare Coccodè, Coccodè, voglio un uovo tutto per me. Coccodè, Coccodè, voglio un uovo tutto per me. Ma bimbi, cosa c'è dentro all'uovo? Avete visto quante uova che ha la gallina tra le ali? Ma cosa ci sarà dentro quelle uova lì? Chissà, andiamo a vedere. Secondo me c'è un... Pronti! Pronti! Oh, ecco bimbi! Un pulcino! Ma come fa il pulcino? Pio, 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 pio! Beato te pulcino che non vai a lavorar, ti sveglia la mattina e pio pio comincia a fare Pio, 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 voglio un chicco tutto mio. Pio, 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 voglio un chicco tutto mio. Il pulcino ha mangiato tanti chicchi ed è diventato grande. E sapete cosa diventa quando è grande? Guardate un po'! Diventa un... KIKIKIRI KIKIRI! Un galletto! Avete visto? Beato te galletto che non vai a lavorare Ti sveglia la mattina E KIKIKIRI KIKIRI comincia a fare KIKIKIRI KIKIKIRI Oggi è nato un uovo di KIKIKIRI KIKIKIRI Oggi, bimbi, è venerdì! Venerdì! KIKIKIKIRI KIKIKIRI! Bravi! Ciao, bimbi! Vi salutiamo e ci vediamo molto presto Ciao! Alla prossima videata! Ciao, ciao!